ok salve vediamo se arriva qualcuno in diretta grazie a tutti 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 ok quindi andiamo a picchiettare sui punti meridiani che adesso ti mostrerò per sciogliere la paura di questo momento che possiamo provare puoi commentarmi la paura attuale di questo momento storico e misurarla da 0 a 10 qual è la tua preoccupazione più forte in questo momento e così ci picchiettiamo insieme pronunciando le nostre paure perché è una tecnica che lavora in negativo ok quindi ti mostrerò adesso l'inizio della pratica e tu stesso la puoi fare davanti al telefono o dovunque davanti al dispositivo che hai e iniziamo quindi a muovere l'energia ok ok parlando di quello che senti io ti do uno stimolo se mi scrivi aggiungo i termini che tu stesso insomma ti riconosce adesso in cui ti corrisponde adesso ok riguardo appunto le paure qualcosa di cui ti vuoi liberare perché è una tecnica alerti che lavora sulla liberazione qualcosa di cui mi voglio liberare ok quindi non stiamo sul pensiero positivo ma stiamo insomma su quello che ci disturba in questo momento che può essere anche un disturbo fisico. che può essere appunto una paura un'angoscia va bene qualcosa di indefinito ok bene iniziamo a preparare la frase io adesso ad esempio prendo come esempio la paura del contagio ok quello che immagino possano provare possa provare la maggior parte delle persone e quindi prepariamo la frase sul punto karate buongiorno Silvia grazie del tuo buongiorno ok prepariamo la frase ok anche se ho questa paura tu puoi citare la tua paura io in questo caso prendo l'esempio della paura del contagio ok e non mi sento tranquilla ovunque io vada nonostante questo mi amo e mi perdono anche se ho la paura del contagio non mi fido del mio sistema energetico né del mio corpo fisico nonostante questo scelgo di perdonarmi anche se ho la paura di ammalarmi mi sento impotente grazie Mirella nonostante questo ripeto scelgo di perdonarmi buongiorno a te eccoci Gaetano siamo partiti ok dal punto dal centro della corona mi sento impotente sono fortemente spaventata mi sento impotente in questa situazione storica ok ho molta paura ho paura di essere contagiata non so cosa devo fare clavicola al di sotto degli ossi della clavicola e punto sotto mi sento spaventata punto sotto al seno direzione capezzoli ok sotto al seno meridiano dello stomaco mi sento spaventata sotto l'ascella quattro dita sotto l'ascella dove noi donne abbiamo il la fascia del reggiseno puoi fare in questo modo o puoi fare in questo modo ok trova per te la posizione più comoda sotto l'ascella meridiano della vescica biliare andiamo ai polsi ho molta paura mi sento impotente in questa situazione storica non mi sento sicura neanche a casa mi sento spaventata potete scrivere le vostre paure ok così le aggiungiamo ognuno per conto proprio può dire quello che teme di più o se sei preoccupato di qualcuno l'angolo dell'unghia picchiettiamo l'angolo dell'unghia verso di te l'angolo dell'unghia verso di te non mi sento tranquilla non mi sento affatto tranquilla tra i tendini dell'anulare e il mignolo punto 9 gamma non mi sento tranquilla ho paura di ammalarmi rifacciamo sull'altra mano la stessa cosa l'angolo dell'unghia picchietto ok verso l'interno verso di me ho paura di ammalarmi il dito medio tutte queste paure salto l'anulare tutte queste paure mi sento molto preoccupata mi sento impotente mi sento preoccupata magari potete aggiungere per una persona cara ok se siete preoccupati per qualcuno che sapete magari che hai il virus mi sento preoccupata faccio fatica a stare tranquilla non mi fido del mio corpo fisico non mi fido del mio sistema immunitario non mi fido del mio sistema energetico ho paura di ammalarmi ho paura di ammalarmi ho paura di ammalarmi sotto l'ascella ho paura di prendere il virus andiamo nello specifico ho paura di ammalarmi ho paura di avere le difese basse ho paura di avere le difese basse ho paura di avere le difese basse mi sento impotente mi sento impotente non mi fido del mio sistema energetico ho paura che quello che già faccio non basta ho paura di non fare bene abbastanza non mi sento tranquilla neanche a casa oppure ho paura di andare in giro anche per quel necessario che devo andare oppure ho paura se vado al lavoro ho paura delle condizioni che ci sono al lavoro mi lascio troppo condizionare dagli altri non riesco a rimanere ferma nel mio pensiero abbiamo fatto due giri adesso ti suggerisco di mettere le mani sulle cosce chiudere gli occhi prendere un respiro diaframmatico gonfio la pancia e lascio andare ascolta in questa fase l'energia che circola ora nel tuo corpo senti se c'è formicolio vibrazione se c'è una parte del corpo che richiama l'attenzione se c'è una tensione se c'è nausea se c'è un dolore ascolta tutto il tuo corpo fisico dalla testa ai piedi ok senti se è aumentata la paura se è diminuito qualcosa ti invito a scrivermi rimisura la tua paura e preoccupazione da 0 a 10 quanto è adesso ok così ripartiamo per un ulteriore giro finché non portiamo a 0 questa paura ok allora puoi commentare tranquillamente se hai avvertito qualche sensazione fisica particolare se sei riuscito a praticare insieme a me ok puoi continuare questi giri finché appunto non arrivi a 0 con la paura senza non dobbiamo accontentarci di due o tre ok se prima avevo otto di paura ricordiamoci sempre di misurare le paure ok quindi ripartiamo con i nuovi connessi con un altro giro con un altro giro fantastico lo sbadiglio è uno dei primi segnali di rilassamento di rilascio delle tensioni quindi brava Ida complimenti ok riprendiamo un altro giro perché per chi magari si è connesso adesso ok possono emergere anche altre paure legate ad altri fatti e non magari a questo momento contestuale che stiamo vivendo ok perché magari è connesso a qualcosa che ho vissuto nell'infanzia ciao Massimiliano ben trovato ok quindi facciamo un giro generale sulla paura e tu inserisci la tua paura di questo momento che magari riguarda anche un'altra situazione bene sollievo sì e abbiamo fatto soltanto due giri di EFT ok dal tema dal quale siamo partiti e dopo aver picchiettato possiamo anche ripensare a un'altra cosa che magari non c'entra nulla ok cioè il tema si può trasformare nel corso dell'EFT perché partendo dal presente magari questo ci riporta come dicevo prima a una situazione passata o comunque mi può far venire in mente altro di diverso o che ha un'associazione particolare che non riesco a distinguere magari a livello cosciente va bene riprendiamo ancora un altro giro perché ripeto se la paura era 8 o 9 la dobbiamo portare a 0 quindi non ci accontentiamo di rimanere a 4 ad esempio quindi anche se ho questa paura e tu ripeti la tua paura se la vuoi scrivere ciao lita ben trovata se la vuoi scrivere mi fa piacere così mi date modo di insomma essere più mirata perché l'EFT funziona che se tu riesci a trovare le parole più mirate per quello che puoi sciogliere funziona in maniera più forte ok se rimaniamo troppo vaghi diciamo sì mi aiuta sempre a rilassarmi perché non ci sono controindicazioni ma se riesco ad essere precisa allora chiaramente riesco a insomma a sciogliere prima è meglio ok quindi ciao Federica ben connessa ok ripartiamo con un nuovo giro di EFT per i nuovi connessi era sulla paura di essere contagiati sulla paura di questo momento che viviamo ok paura di beccarsi l'influenza anche se ho questa paura mi amo mi accetto e mi perdono anche se mi sento impotente di fronte a una malattia scelgo di perdonarmi anche se faccio fatica a rimanere centrata nel mio potere sovrano ok e affidarmi totalmente del mio divino interiore scelgo di perdonarmi ho paura di ammalarmi ho paura di impanicarmi ho paura di essere troppo condizionata di non saper gestire le mie emozioni ho paura di condizionare troppo i miei vicini ad esempio le persone care ho paura di contagiare le persone care ciao Ivana ben trovata mi sento impotente di fronte a tutto questo mi sento vittima di fronte a tutto questo faccio fatica ad avere un pensiero positivo sotto la scella faccio faticare e stare tranquilla faccio fatica a rimanere centrata su me stessa non mi fido del mio potere mentale non mi fido del mio potere sovrano faccio fatica a trovare pace interiore angolo dell'unghia faccio fatica a restare calma faccio fatica a frenare i pensieri negativi salto l'anulare faccio fatica a restare centrata bene Viviana si grazie a te si si la puoi riprendere quando vuoi fantastica questa tecnica è fantastica faccio fatica a rimanere centrato centrata ho paura di ammalarmi ho paura di essere contagiata ho paura di essere portatore senza saperlo e magari di creare un danno agli altri ho paura di non sapermi prendere cura di me non so a chi credere mi sento confuso mi sento confusa non so dove sia la verità non so cosa pensare faccio fatica a restare tranquilla faccio fatica a restare calma ho paura di stare male ho paura di stare male ho paura di stare male ho paura che accada il peggio ho paura che accada il peggio ho paura delle conseguenze possiamo dire professionali anche perché molte persone ci stanno perdendo economicamente con questa pausa ho paura di non saper trasformare questa crisi ho paura di avere ulteriori problemi di non sapere come andare avanti pensate anche alle conseguenze di questo restare a casa di questa restriction che stiamo vivendo magari ti fa pensare a qualcosa del passato a una restriction di quando eri bambina ok aggiungi anche puoi scrivere quello che senti in questo momento puoi scrivere la tua paura se è emerso qualcosa di nuovo un ricordo perché possiamo farlo in modo mirato se vuoi proprio sul tuo caso ho paura che vada tutto a rotoli ho paura che non si ripristini più quell'equilibrio che c'era prima ho paura di questa crisi ho paura di essere ingannata mi sento sotto osservazione mi sento insicuro mi sento fortemente insicura non so come gestire il tutto ho paura di ammalarmi ho paura di peggiorare la mia situazione ho paura di complicarmi le cose ho paura di non trovare una soluzione adeguata per me non mi fido di nessuno non mi fido di me stessa non mi fido del mio potere mentale divino mi sento lasciata sola mi sento di non avere un sostegno mi sento lasciata sola mi sento lasciata abbandonata potresti provare questo? mi sento impotente mi sento impotente mi sento piccola mi sento indifesa mi sento senza difese mi sento insicura mi sento insicuro mi sento schiavo di un pensiero mi mancano le forze ho paura di non avere la giusta forza per vivere al meglio questa situazione ok di nuovo le mani sulle cosce chiudo gli occhi aria nella pancia respiro diaframmatico ascolto le vibrazioni sulle gambe piedi cosce scannerizzo tutto il mio corpo sento se c'è formicolio se c'è tensione allo stomaco alle spalle schiena formicolio sulle mani mentre l'aria entra ed esce sento il peso del mio corpo sul bacino ascolto tutta l'energia che circola ok qualche feedback se ti va di darmi come ti senti con questi altri due giri due o tre giri che abbiamo fatto c'è qualche consapevolezza in più perché a volte questa tecnica ci fa vedere le cose da un altro punto di vista ok è un cambio di percezione il miracolo è un cambio di percezione come afferma nel libro un corso in miracoli ok a volte non è la situazione esterna che deve necessariamente cambiare ma è la mia vista interiore che io scelgo per guardare il mondo esteriore respiro ascolto tutto il mio corpo di nuovo se ti va di scambiare qualche sensazione fisica mi fa piacere come ti stai sentendo ora da 0 a 10 dove siamo con la paura se siamo ancora scesi hai avuto difficoltà a provare questa tecnica scrivimi pure così mi rendo conto di quello che stiamo facendo insieme se qualcosa di nuovo per te ok si è trasformata la tua paura perché può accadere appunto che il problema si trasformi che arriva qualcos'altro che io non pensavo non immaginavo perché di solito queste crisi diciamo che viviamo anche a livello collettivo possono risvegliare insomma anche dei traumi insomma delle memorie che abbiamo fisse nelle nostre acque interne e che ci possono far ricordare anche eventi del passato o che appartengono anche ad altre esistenze bene come stai ora? ti va di scrivermi qualcosa? mi farebbe piacere? se continua a sbadigliare va bene ok se c'è nausea vuol dire che stai liberando qualcosa va bene se a volte mi capita spesso che le persone hanno anche un mal di testa perché anche questa è una forma di liberazione ok l'energia che sta iniziando a scorrere un sintomo fisico si può spostare da una parte e dall'altra ok quindi può capitare zero paura Rita bene pace interiore grande forza interiore complimenti complimenti Rita è energizzante sì è vero Federica perché quando iniziamo a togliere il negativo la luce l'energia emerge perché noi siamo diamanti da spolverare non dobbiamo aggiungere nulla di positivo perché siamo già luce siamo fotoni ok e questa tecnica è una tecnica di pulizia quindi stiamo facendo pulizia e quando fai pulizia che spolveri il diamante chiaramente non può che brillare quindi grazie di questo feedback Federica allora Simona sei subentrata a metà e mi ha colpito quando hai detto qualcosa che ho vissuto da bambina ok sì ci può stare che questo periodo ci faccia allora se vuoi definirlo Simona puoi scrivere se ti va oppure iniziamo anche un giro per te lo posso fare anche mirato sul tuo caso se vuoi bene poi Rita ho solo pensato alla paura di non saper lasciare andare la sigaretta ok quindi ti ha rimandato a questo bene Mirella pace tranquillità mi fa piacere la paura di non saper lasciare andare la sigaretta ok sì perché c'è anche questo cioè nella nostra gestione della salute adesso chiaramente questo virus sta insomma l'abbiamo messo sul trono ma ci sono persone che ahimè insomma lasciano il corpo proprio per il fumo e magari facendo una statistica può essere molto maggiore che riguarda questo virus allora prendersi cura di sé è prendersi cura di tutto il sistema che siamo noi siamo esseri multidimensionali ok quindi prendersi cura del corpo fisico del corpo mentale del corpo emotivo astrale spirituale tutto questo è necessario fare e la paura di non sapere lasciare andare la sigaretta però devi misurare Rita da 0 a 10 quanto tu non vuoi smettere di fumare perché ci sono persone che lo dicono ma in fondo non vogliono perché è una consolazione molto forte il linguaggio simbolico della sigaretta potrebbe essere il ciuccio perché la bocca si assume a mo' di suzione ok come un bambino piccolo che prende il biberon o il ciuccio quindi potrebbe essere legato sempre qui a un bisogno di compensazione orale del bambino della mia bambina ok che magari non ha avuto un latte materno oppure una sedata lattata oppure ne voleva ancora di più perché magari c'è una memoria transgenerazionale di mancanza vai a sapere bisogna imparare ad esplorare se stessi ok quindi se volete di nuovo dire questa cosa allora possiamo fare Rita se sei d'accordo un giro su questa tua paura però devo capire devi sapere anzi per essere onesti fino in fondo se veramente vuoi lasciare andare la sigaretta perché se sei a 5 5 sì 5 no diciamo le resistenze sono pari alla tua volontà e possiamo lavorare su quel 5 ok una cosa molto importante quando stabiliamo il tema è stabilirlo in maniera onesta ok cioè se veramente voglio quella cosa se non la voglio ammettere che non la voglio non voglio guarire ok perché c'è sempre un vantaggio secondario dietro ai nostri fastidi dietro ai nostri disagi sempre un vantaggio secondario perché è l'ego che crea questo e ne deve trarre un vantaggio bene Simona mi viene in mente quando non potevo uscire per un orario condominiale o comunque sì il non poter scendere e giocare quando volevo esatto la costrizione ok 10 non voglio smettere di fumare bravissima sei stata onesta allora Simona facciamo un giretto specifico per te se vuoi quindi questo sentirsi costretti ok mi sono sentita costretta avverto ancora questa costrizione di stare a casa qualcuno che mi impedisce qualcosa qualcuno che blocca la mia libertà personale mi sento bloccata mi sento forzata sento che la mia volontà non è rispettata non potevo scendere a giocare la mia libertà è stata bloccata mi sono sentita costretta mi sono sentita costretta mi sono sentita costretta imprironata la mia libertà è stata forzata la mia volontà è stata forzata non mi sono sentita rispettata potresti provare molta rabbia adesso Simona e se è forte la rabbia puoi picchiettare sulla rabbia tutta questa rabbia se vuoi mi puoi confermare oppure no se come ti senti adesso oppure c'è tristezza e delusione perché l'emozione che emerge fortemente quando stiamo picchiettando la possiamo inserire nella verbalizzazione del problema perché l'ascolto del corpo fisico mentale astrale deve essere sempre presente mentre ci picchiettiamo la mia volontà è stata forzata mi sono sentita trincerata imprigionata la mia libertà è stata limitata la mia libertà è stata limitata fortemente mani sulle cosce di nuovo riprendo il respiro abbiamo fatto adesso un giro di FT per Simona che con questa restrizione di stare a casa le è venuta in mente di non poter uscire da bambina perché c'era un orario condominiale da rispettare ok ok complimenti Simona goditi questo pianto quindi continua a picchiettare se stai piangendo perché è arrivata la tristezza continua a picchiettare per questa tristezza che è emersa brava hai liberato stai liberando questa tristezza questa è l'illusione questa delusione la tua bambina che sta piangendo per come è stata trattata per la restrizione che ha sentito quindi continua finché il pianto non si calma ok rimanendo connessa sull'immagine se c'è un'immagine particolare un colore particolare una parola particolare picchietta su quello così si scioglie il trauma diciamo la memoria ok quindi questa bambina che è stata costretta questa bambina che è stata costretta tutta questa tristezza tutta questa tristezza questa tristezza antica non mi sono sentita rispettata non mi sono sentita rispettata tutta questa tristezza tutta questa tristezza mi sono sentita costretta tutta questa tristezza chiedo al mio sistema energetico di lasciarla andare di lasciarla andare in modo immediato e totale e quindi Simona puoi continuare in questo modo di nuovo respiro ascolto il mio corpo ok e passiamo ad Angioletta che da quando è morto mio marito se so di uscire mi viene l'ansia e il panico ok perché non potevi uscire quando tuo marito era ammalato immagino o forse ok puoi bicchiettare su questo quindi uscire pensando di uscire l'idea di uscire mi mette ansia e panico faccio fatica ad uscire qui nel dettaglio Angioletta potresti se vuoi in libertà specificare cosa è successo se avevi tuo marito ammalato a casa non potevi uscire perché mentre eri fuori magari ti aspettavi che potesse accadere il peggio non lo so sto immaginando quindi bicchietta sull'ansia e il panico perché devo uscire ok mio marito è morto all'improvviso ok mio marito è morto all'improvviso e io non c'ero immagino quindi ho l'ansia e il panico dovresti Angioletta raccontare ok è proprio l'accaduto l'aneddoto ok vai con il racconto come se tu stessi parlando a qualcuno stessi dicendo a qualcuno quello che è successo con l'episodio lì e picchietta mentre racconti questo episodio ok tutte le sensazioni che provi finché quell'immagine lì dove tu hai avuto la notizia ok del decesso di tuo marito dove ti trovavi perché l'immagine ce l'avevi sicuramente chiara e nitida è stato di notte ah ok con lui è stato di notte ok ok quindi ti ha provocato insomma questa ti ha provocato questa questa paura di uscire ok quindi picchietta allora sicuramente hai da forse hai ancora da smaltire questo trauma quando eri con lui di notte e quindi picchietta mentre racconti come se avessi davanti a te una persona alla quale raccontare l'aneddoto finché non ti calmi ok e finché non senti che l'immagine stessa e i ricordi stessi che hai non si sono stemperati va bene e quindi continui così molto spesso mi regolo con l'immagine mentale quando la persona ha l'immagine a colori nitida nel ricordo vuol dire che il trauma è presente dopo che abbiamo picchiettato molte volte spesso l'immagine si rimpiccolisce o diventa bianco e nera sfocata e la vede lontano questo vuol dire che stai sciogliendo il trauma il ricordo va bene quindi puoi continuare così quindi mentre avevamo a letto soffocamento ok ok si angioletta puoi ripeto picchiettare e continuando appunto sul il racconto di quello che è successo simona complimenti complimenti per il lavoro che hai fatto ok angioletta si non siete riusciti a salvarlo ma c'è un forte senso di colpa qui ti posso suggerire anche un pine fiori di buck per il senso di colpa ok controllo l'ora non sono riusciti a salvarlo forse è anche non so se è anche tu il senso di colpa quindi puoi vedere se ti corrisponde anche questo ok bene simona puoi riprendere la tua bambina interiore che ti ha fatto piangere e vedere rivedere se è ancora ripulita da quell'emozione perché il nostro bambino interiore deve sprizzare di gioia è la nostra parte creativa spensierata pura ed innocente ok quindi quella bambina la puoi rivedere e riabbracciare ogni volta che vuoi e se ancora non è così gioiosa puoi ripicchiettare magari su quell'evento o c'è un altro evento che spegne un po' il suo sorriso ok quindi bene come state come stai mi fa piacere i vostri interventi ok angioletta se vuoi si può fare un giro sul senso di colpa se questo che tu provi o lasci la responsabilità a chi era di dovere insomma quindi dimmi tu ah una cosa importante che ti suggerisco di fare è bere acqua ok bere acqua perché aiuta a liberarci dalle tossine energetiche quindi dopo EFT se l'abbiamo fatto magari anche per 10 minuti o comunque per poco tempo suggerisco di bere acqua viene suggerito di bere acqua e un'altra cosa importante è che se magari ci sto per un quarto d'ora 20 minuti dopo è bene riposarsi un po' perché è una tecnica che può spossare veramente che può veramente stancare vedo spesso i miei clienti che insomma alla fine devono proprio andare a riposare ok quindi ascoltate il vostro corpo cercate di insomma di rilassarvi ok sì bene possiamo continuare se volete un altro giro se vuoi Angioletta lo possiamo fare adesso per te nello specifico riguardo la paura di uscire allora il mal di testa ok grazie Simona per questo intervento perché quando trattiamo una paura o comunque un'emozione un ricordo può appunto lasciarci un sintomo fisico e se è forte quindi mal di testa adesso Simona picchietta sul tuo mal di testa va bene da 0 a 10 misura quant'è perché adesso stai liberando quindi picchiettando agevoli il ripristino dello scorrimento dell'energia e quindi del sistema energetico adesso vai sul picchietta di summa di testa ciao Anuela grazie a te questa tecnica si chiama EFT Emotional Freedom Technique tecnica di libertà emotiva per liberare i traumi emozionali che abbiamo ok la puoi fare su qualsiasi cosa non ci sono controindicazioni anche sui bambini e su un sintomo fisico appunto su un ricordo su qualcosa che comunque ti disturba qualcosa di negativo perché è una tecnica che va a liberare ok non lavoriamo sul pensiero positivo lavoriamo su quello che c'è adesso che mi disturba sia a livello fisico sia a livello mentale sia a livello emozionale questa tecnica Rita ti può aiutare anche per il fumo però dobbiamo andare a vedere siccome è una forma di dipendenza dobbiamo andare a vedere dove si aggancia questo bisogno di fumare ok a quale bisogno affettivo a quale magari credenza o convinzione ti può aiutare sì perché ripeto mare non fa non ci sono controindicazioni chiaramente come ogni tecnica va sperimentata ok se sento che in qualche modo mi corrisponde mi piace la faccio mia tutti i giorni posso anche 5 minuti 10 minuti farla su quel tema perché a volte ho bisogno di tempo per sciogliere non dobbiamo forzare un processo perché se tu adesso Rita non vuoi smettere di fumare e questo per te è forte da 0 a 10 è forte a 10 non possiamo forzare questo processo cioè altrimenti vai contro una parte di te quindi adesso cerca di comprendere da dove arriva questo bisogno di fumare cioè qual è la compensazione forte ok cerca di andare nella comprensione e quando riesci a determinare un elemento importante possiamo picchiettare su quello che sta alla base non direttamente sul fumo non si fa voglio fare questo voglio smettere di fumare voglio dimagrire non funziona così le afti ok ma sul disagio su quello che provo quindi fumare per te cosa vuol dire ti fa non so sei preoccupata per la salute quindi ho paura di sporcare i miei polmoni ho paura di stare male attraverso il fumo ok bisogna che vai a trovare il disagio che ti procure il fumo e poi andare a vedere cioè all'origine ok da che cosa è data questa spinta questa dipendenza perché faccio fatica a smettere qual è il bisogno che va a compensare quindi è un po' un'esplorazione da fare ok bene Angelina allora quando hai un'emozione che risponde al centro delle scapole e non riesci a capire di che emozione si tratta comunque si scioglie sì se non è chiaro qualcosa io posso picchiettare su quello che mi è poco a volte non è necessario che io sappia l'origine della questione ok da dove arriva magari questo disturbo a volte funziona picchiettare soltanto sul sintomo quindi se la cosa non è chiara ma hai una sensazione un'emozione al centro delle scapole quindi un luogo specifico del tuo corpo fisico picchietta su quello perché più picchietti e si più vengono chiarite le sensazioni vengono chiarite le emozioni perché si entra proprio nel tema è come aprire una porta ci entri piano piano cioè il paesaggio si si allarga gli orizzonti si allargano e si vede più chiaro ok ecco giusto è questo che non ho capito dove aggancio a che trauma bene Rita sì comprendo che da sola non si riesce perché a volte i nostri traumi sono profondi abbiamo bisogno di un professionista che ci aiuti insomma a comprendere Francesca ben trovata Francesca non conosco la tecnica certamente dipendenza affettiva ho difficoltà a lasciare andare ok brava Simona abbassato il mal di testa fantastico complimenti benissimo ok allora la dipendenza affettiva sì quindi dobbiamo andare a vedere di che cosa è fatta Francesca ok cioè che cosa mi è mancato nel mio percorso storico cosa mi è mancato il contatto fisico con mia madre mi sono mancate l'attenzione di mio padre ho vissuto un abbandono un rifiuto cioè qual è la ferita dell'anima più forte ok di che cosa hai paura ok le ferite dell'anima sono connesse appunto alla paura del tradimento dell'abbandono del rifiuto di essere ingannate umiliate ok quindi prego Angelina quindi Francesca diciamo picchiettare sulla dipendenza affettiva e dire in questo modo ha poco senso perché dobbiamo andare nello specifico ok come dicevo prima è una tecnica che se tu sei più mirata con i termini e con le situazioni lavora proprio in maniera precisa e si fa prima quindi difficoltà a lasciare andare va bene possiamo fare un giro Francesca questo un po' per tutti perché la difficoltà a lasciare andare è un po' comune a tutti la facciamo insieme adesso quindi iniziamo Angelina quindi se vuoi puoi praticare sulla difficoltà a lasciare andare e anche la paura a lasciare andare perché noi siamo attaccati ai nostri traumi siamo attaccati ai nostri ricordi e abbiamo paura di lasciare andare le cose che ci fanno stare male c'è una parte di noi che ahimè lavora in questo modo anche se ho paura a lasciare andare ho difficoltà a lasciare andare mi amo mi accetto così come sono anche se ho difficoltà a lasciare andare mi attacco agli altri mi attacco agli oggetti mi attacco alle cose mi attacco al cibo mi attacco al fumo nonostante questo scelgo di perdonarmi anche se ho paura di lasciare andare ho difficoltà a lasciare andare il passato a lasciare andare i traumi a lasciare andare anche i momenti belli del passato sono nostalgica i ricordi le persone del passato nonostante questo scelgo di accettarmi così come sono ho paura e difficoltà a lasciare andare faccio tanta fatica a lasciare andare questi attaccamenti questi attaccamenti affettivi ho paura a stare da sola ho paura a tenermi in piedi da sola ho paura di essere messa da parte faccio fatica a lasciare andare faccio fatica a lasciare andare vedi quello che ti viene in mente mentre diciamo lasciare andare ho paura a lasciare andare ad esempio chi fa molta fatica a lasciare andare può soffrire anche di stipsi di stitichezza perché trattiene perché tengo tutto dentro di me mi faccio carico di molte situazioni ad esempio faccio fatica ad esprimere le mie emozioni faccio molta fatica ad esprimere ciò che sento ho paura di rimanere da sola ho paura di essere abbandonata ho paura del vuoto ho paura della solitudine ho paura di non essere amata ho paura a lasciare andare faccio molta fatica a lasciare andare faccio fatica a lasciare andare non mi fido non mi fido ok mani sulle cosce di nuovo chiudo gli occhi aria nella pancia abbasso il diaframma respiro diaframmatico continuo con gli occhi chiusi ad ascoltare il mio corpo fisico sento l'energia che scorre sento dalla pianta dei piedi se c'è formicoli e vibrazioni ascolto le mie gambe mentre l'aria entra ed esce ascolto le cosce sento il peso del mio corpo sul bacino sento il mio respiro se è profondo se faccio fatica a renderlo profondo o è alto ascolto formicoli e vibrazioni in altre parti del corpo se ci sono tensioni nausea quindi ti invito ad ascoltare tutto il tuo corpo fisico a sentire le sensazioni bere acqua mi raccomando bevete acqua ok puoi condividere se sei riuscita Francesca a fare sul lasciare andare puoi condividere le sensazioni o qualche parola che ti ha colpito in maniera particolare bene io procedo con Rosa allora la mia prima sigaretta me la diede mio padre al compilimento di 18 anni lui non c'è più da 12 anni proprio oggi ok vedi quindi in questo caso ha proprio la sigaretta è il simbolo dell'unione mi ha fatto un regalo mio padre quindi è è molto forte immagino per te cioè abbandonare la sigaretta e abbandonare tuo padre ok quindi ecco le associazioni che facciamo le convinzioni che ci costruiamo le equazioni che facciamo è un atto psicomagico diciamo in che ha aggiunto in questo caso l'uso della sigaretta l'associazione come i cani di Pavlov quindi compleanno passaggio alla mattina alla maturità quindi sei pronta per fumare ok quindi significa anche che stai diventando donna adulta quindi pensa quanti significati con questo gesto che ti ha fatto tuo padre magari lui chiaramente pensava di fare una cosa buona sicuramente ma hai il diritto di incazzarti se questa cosa ti ha leso o non ti è piaciuta o te ne vuoi liberare dovresti sganciare l'associazione sigaretta papà ok puoi rompere questo e con questa tecnica lo puoi fare cioè puoi iniziare a raccontare proprio l'evento cioè che cosa è accaduto quella sera quel giorno quando tuo padre ti ha fatto questo regalo ok vai a descrivere tutta la situazione mentre ti picchietti e osservi le emozioni che provi potrebbe arrivare delusione potrebbe arrivare rabbia potrebbe arrivare tristezza ok magari non ne fumi molte e te le vuoi tenere quelle poche proprio per custodire questo rapporto con tuo padre questo amore verso tuo padre scegli come manifestare l'amore verso tuo padre ok quindi sicuramente puoi trovare un altro modo se fumare non ti piace o se intendi smettere bisogna che qui decifri quello che tu vuoi fare devi decifrare quello che tu vuoi fare ok come state accolgo altri feedback se volete ok bevete acqua di nuovo mi raccomando ok se vuoi rosa possiamo fare un giro su questo aneddoto sigaretta papà oppure qualcuno vuole vuole passare in rassegna un'altra paura specifica fate pure allora difficoltà lasciare andare l'abbiamo fatta quindi rosa se vuoi possiamo fare un giro quindi riguardo questo aneddoto ok possiamo partire direttamente dalla colonna ok bene mi fa piacere ok francesca allora ti ripendo un attimo sì allora le sento tutte ora sento una contrazione al plesso solare e tensione sulla colonna vertebrale ok allora perdonami rosa passo un attimo a francesca che adesso mi ha dato il feedback quindi picchiettiamo un attimo su queste contrazioni nel plesso solare misurali da 0 a 10 quanto sono forti quindi queste contrazioni al plesso solare queste tensioni al plesso solare mettiamoci anche la tensione alla all'altezza della gola plesso solare e gola sento tensione sulla colonna vertebrale chakra della gola chakra della gola tutte queste tensioni tutte queste tensioni francesca stiamo facendo il giro per te sulle contrazioni che è scritto nel plesso solare a seguito della paura di lasciare andare ok quindi tensioni sul plesso solare tensioni sul chakra della gola tensioni sul mio plesso solare tensioni sul chakra della gola tutte tutte queste tensioni quando c'è una tensione forte si arriva una tensione forte con le ft perché a volte è come se andiamo a scoprire una pentola che bolle dovete continuare finché non la porti a zero ok si arriva una sensazione molto forte una nausea molto forte una tensione molto forte un pianto molto forte e tu continua nonostante tutto fino ad azzerare il sintomo ok questa tensione sul plesso solare questa tensione sul plesso solare tensione sul chakra della gola vedi se cambia francesca questa tensione sul chakra della gola cosa peggiora cosa migliora chi dei due se il plesso solare o gola ascolta bene il tuo corpo contrazione il plesso solare contrazione il plesso solare ok puoi continuare francesca affinché non senti che si sono acquietate queste tensioni va bene perché sono legate chiaramente alle emozioni che abbiamo toccato e alle paure quindi con calma mi raccomando ok controllo un attimo la mia batteria ah ok ci mancano due minuti siamo in chiusura guarda Rosa te l'ho detto quindi adesso velocemente facciamo questo giro riguardo la sigaretta e tuo padre anche se mio padre mi ha regalato la sigaretta quando avevo 18 anni e da lì non l'ho più lasciata accetto questo gesto anche se mio padre mi ha regalato la sigaretta e da lì ho iniziato a fumare e questo per me ha significato un sigillo dell'amore che provo per lui nonostante questo nonostante i danni che fa il fumo mi accetto così come sono anche se è mio padre che mi ha iniziato a fumare ai miei 18 anni nonostante questo mi ha o mi accetto così come sono la mia sigaretta me la data mio padre quando ho compiuto 18 anni quella sigaretta per me è stato un gesto di amore ho bisogno di assecondare mio padre ho bisogno di assecondare mio padre ho bisogno di essere brava verso mio padre ho paura di rinunciare all'amore di mio padre che mi ha manifestato attraverso quella sigaretta forse è stato l'unico non l'unico gesto ma quella sigaretta quella sigaretta sigaretta papà sigaretta papà l'amore per mio padre l'amore per la sigaretta quel regalo quel regalo inaspettato immagino quel regalo di mio padre quella sigaretta quella sigaretta inaspettata dovevo diventare grande dovevo diventare grande solidare con mio padre solidarietà solidarietà con mio padre ho paura di non sapere amare mio padre al di là della sigaretta ok puoi continuare così rosa e vedere quello che succede sì francesca continua a picchiettare ok bene siamo in chiusura io vi ringrazio della vostra partecipazione ci vediamo venerdì alle 14 dopo domani alle 14 e anche la prossima settimana ok bene buon proseguimento di giornata dunque questa diretta adesso faccio termina e rimane nel gruppo ok quindi non viene perso nulla la puoi riguardare Liana quando vuoi ok e comunque ci vediamo venerdì alle 14 venerdì prossimo alle 14 ok quindi se avete altre paure altre cose da sciogliere potete prepararle e le vediamo insieme va bene ciao di nuovo grazie ad ognuno di voi ciao